Cari ascoltatori, benvenuti o bentornati al podcast Fala Fasso Italiano. Adesso che avete la valigia pronta per partire per l'Italia, siete anche preparati per sentire una mia esperienza che... in realtà non sono sicurissima di raccontarvi. Ma siccome ero giovanissima, certi sbagli sono accettabili. Attenti, perché se non siete giovanissimi, ma siete delle persone che non sono abituate a viaggiare tantissimo, una situazione simile potrebbe capitare anche a voi. Perciò tenete bene le orecchie aperte! Dopo essere atterrate all'aeroporto, io e mia sorella siamo andate a ritirare le nostre valigie. Tutto liscio, le nostre valigie enormi erano arrivate. Io prendo la mia e lei prende la sua. Dalla porta di uscita, sai, quella che si apre e si chiude e quando cammini sembra di essere in una passerella di moda? Ecco, proprio quella. Guarda a destra e non vedo nessuno. Guarda a sinistra e... Ecconi! Baci e abbracci e la gioia di vedere i parenti che tanto vuoi bene e che non li vedi da tanto. Eravamo tutti molto felici. Andiamo verso la macchina e dopo tre orette eravamo finalmente a casa. Dopo un paio d'ore decido di aprire la mia valigia. La prendo e penso. Però, che valigia pesante! Ma l'apro facilmente. Inizio a cercare un pensiero per mia zia e all'improvviso trovo... Ma che cos'è questo? Fagioli? Farina? Ma non mi ricordo di aver portato del cibo. Boh, sarà stata mia mamma? Mi sono domandata. Ma più controllavo la valigia, meno riconoscevo la mia roba. Goia bada! Ma no, non è possibile! Finché ho trovato degli oggetti che non facevano senso. E ho pensato ad alta voce. Questa valigia non è mia. Mio zio, dopo aver guidato tre ore all'alba per venire a prenderci all'aeroporto di Malpensa a Milano e dopo aver guidato gli stessi chilometri per rientrare in Liguria, era all'inizio incredulo. Non sapeva se ridere o se arrabbiarsi. Era in piedi che guardava la valigia aperta per terra e diceva Ma va, figurati se hai preso la valigia sbagliata. Poi, lui stesso ha visto che c'era qualcosa di strano. La roba che c'era dentro non poteva essere mia e cominciava a diventare un po' insofferente. A quel punto, per sdramatizzare, mia sorella decide di aprire la sua di valigia. E, sorpresa! Anche la sua valigia non era la sua. Ma come? A quel punto nemmeno io ci credevo a quella coincidenza. Mio zio, mamma mia, che ormai ci mangiava con gli occhi, non ci credeva neppure lui. Pensava che lo stessimo prendendo in giro. Perché non era possibile che due persone diverse avevano preso due valigie diverse di persone sconosciute. Io ho guardato mia sorella negli occhi e ho capito che non era uno scherzo. Poi ho visto negli occhi di mio zio che anche lui aveva capito che non scherzavamo e a quel punto voleva ucciderci e noi volevamo morire perché non avevamo le nostre benedette valigie. Lui, talianissimo, ci ha sgridato per ore. Ma la cosa divertente, nonostante la situazione, è che mentre lui ci sgridava, noi ridevamo e più ridevamo più lui ci sgridava. Ma non riuscivamo a non ridere perché lui ci sgridava in portoghese e brasiliano ed era troppo simpatico sentirlo. Ha smesso solo quando ha deciso di chiamare l'aeroporto per cercare di recuperare i nostri bagagli. Ha cercato di spiegare la situazione al centralinista e questa parte è stata ancora più divertente, almeno per me. Siccome io e mia sorella non sapevamo cosa fare, poiché non parlavamo benissimo l'italiano e per di più eravamo minnoreni, non ci restava altro che cercare almeno di non ridere, soprattutto davanti a lui. A parte essere molto arrabbiato con noi, si vedeva che era preoccupato di non fare brutta figura, poiché non aveva una nipote che in qualche modo si era sbagliata. No, ne aveva due nipoti che sono riuscite a prendere due valigie sbagliate, una a testa. Mentre lui parlava al telefono, gli sentivo dire «Sì, sì, confermo, tutte e due hanno preso la valigia sbagliata, sì, una a testa». Dopo un minuto di pausa, ha detto «Volevo capire come posso consegnare le valigie sbagliate e capire se le loro valigie sono ancora in aeroporto». La cosa più incredibile era che la valigia che avevo preso era di una brasiliana che per fortuna anche lei era in Liguria. siccome non eravamo molto distanti, è venuta a prendersela il giorno dopo. L'altra valigia, quella che aveva preso mia sorella, l'avevamo riportata in aeroporto quando siamo andati a prendere le nostre. Mio zio, poverino, ha dovuto guidare per tre ore di nuovo fino all'aeroporto di Milano e altre tre ore per ritornare. Io ero felicissima che il nostro bagaglio era ancora nella sezione di bagagli e oggetti smarriti. Mio zio, invece, non era molto contento, ma non poteva farne a meno. La famiglia è la famiglia. Quando viaggio nei giorni d'oggi metto sempre un fiocchetto nella mia valigia di colore raggiante tipo rosso, pink, giallo fosforescente in modo da poter riconoscerla da lontano. In questo modo non prendo la valigia sbagliata e soprattutto aiuto gli altri a non prendere la mia di valigia. Vi consiglierei di fare altrettanto perché dopo ore di volo arrivati in un paese diverso vedere da lontano la propria valigia che arriva è una sensazione di sollievo quasi che di pace. E ora che avete ascoltato questa puntata sono sicura che il vostro viaggio andrà benissimo perché la valigia è la valigia. Buon viaggio cari amici. A presto!